Una nuova mentalità ad una squadra forte, dal grande potenziale, forse ancora in gran parte in espresso. È il lavoro che da una settimana a questa parte il nuovo allenatore del Teramo, Massimo Paci, ha impostato con il suo staff sul sintetico del Bonolis, sede della preparazione precampionato del Diavolo. Il neotecnico, a distanza di qualche giorno dal suo insediamento, è stato presentato ufficialmente nella sede della Infosat di Franco Iachini. Ho trovato una squadra forte, una squadra con grande potenziale, una squadra con tutti i ragazzi a posto che sono vogliosi di far bene, sono vogliosi di non perdere tempo e vogliosi di allenarsi per migliorare. Quindi sono molto contento, le prime impressioni sono state ottime. Allora, questo gruppo è un gruppo importante. Adesso inizierà il mercato, io sono sicuro che cercheremo di fare la squadra migliore che potremmo fare. A prescindere da tutto, io come allenatore e noi come staff cercheremo qualsiasi cosa succederà nel mercato e ho grande fiducia che si farà una grande squadra di fare il massimo, senza lamentere, senza scuse e cercare di massimizzare il potenziale dei giocatori che avremo a disposizione. Ha detto cose interessanti in conferenza stampa rispetto a quello che potrebbe essere un nuovo Teramo che vedremo. Più aggressività, più attenzione magari anche ad una fase di non possesso, più gioco verticale, meno tocchi in campo. Questo è il mio modo di proporre. Parto dalla fase difensiva perché credo che una squadra, la fase difensiva, sia la base. Io ho fatto il calciatore e quando in campo eri organizzato e messo bene giocavi in assenza di paura. Poi questa è una squadra con delle potenzialità, credo che se avere una base forte, avere una base in cui ti riconosci in una squadra tosta e poi vengono fuori le qualità dei giocatori che abbiamo a disposizione. Credono molto nel gioco verticale perché è un gioco che mi appassiona e quindi cercheremo di proporre quel tipo di gioco compatibilmente alle caratteristiche dei giocatori. Però dove voglio lavorare è sull'aspetto mentale, sul creare una cultura nuova, diversa, in cui i giocatori sappiano esprimersi al massimo. La testa prima della tattica è il credo di Paci che in attesa del mercato, che con ogni probabilità cambierà profondamente volto alla squadra, sta lavorando sulla base del 4-2-3-1. Principi che domani saranno testati nella prima amichevole alle 17.30 contro la Ternana a porte chiuse per stampa e tifosi. Stiamo lavorando con la difesa a quattro. Davanti potremmo provare un centrocampo a tre con i tre attaccanti o due centrocampisti, due mediani con i quattro attaccanti. Non credo molto nei moduli in fase di partita. Credo che il modulo sia importante, ma in fase di partita possiamo anche cambiare. L'idea di partire con la difesa a quattro, sì, quella ce l'ho. Per il resto sono i principi di gioco che cercheremo di portare avanti.